Ciao a tutti ragazzi, oggi abbiamo una bellissima auto d'epoca, molto ricercata, una Triumph Spitfire 1500, ultima serie, 1978, già dotata di CRS ovviamente, auto certificata dal registro Triumph, completamente originale, lo scoppio in radica, il suo interno, cappotta in perfette condizioni, veramente un'auto conservata molto molto bene dal proprietario. Un'auto veramente ottima sotto tutti gli aspetti che offriamo a un prezzo interessante.